Partiamo con il nomination palesi! Alfonso io faccio iniziare ad Adriana per l'anzianità! Professionale! Certo, professionale! Io nomino Katia perché ieri sera ha perso una partita a bigliardino e si è un po' innervosita! No, 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 no! Carmen, sei una donna che ha 60 anni, questo non lo accetto! Alfonso sono loro che si mettono a fare... Ma tu hai detto che sono ipocrita e pettegola! Sei tu che sei la regina dagli occhi di ghiaccio! Ho detto, Colombo, e non mi prenderi per i fondelli! Non ti prendo per i fondelli! Carmen, ha ragione Katia, vi siete messi d'accordo! Ma sì! A questo punto prendo e me ne vado! E vai! Concetto fermi i lavori! Portatemi il pitosforo! Beh, vabbè, buonanotte!